Buongiorno, sono Pietro Barbetta, l'attuale direttore del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è un centro clinico che gestisce la più antica scuola sistemico-relazionale di Milano. La nostra scuola insegna il Milan Approach, così come fu elaborato da Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin circa 40 anni fa. Il termine approccio indica una continua evoluzione dalla psicoanalisi alla cibernetica al costruttivismo e alla visione sistemico-relazionale di Gregory Bateson. La scuola trasmette un'epistemologia complessa che si accompagna costantemente all'attività clinica nel vivo delle sedute terapeutiche in una visione di apprendimento esperienziale. Il percorso può prevedere un anno di propedeuticità breve antecedente al percorso quadriennale ufficiale, i quattro anni curricolari necessari al riconoscimento ministeriale in cui il gruppo base degli allievi allievi dello stesso anno attraversano un lavoro personale nella matrice del gruppo condotto dal didatta e dagli allievi didatti. Infine un percorso per allievi didatti proposto dal centro ai migliori allievi della scuola a fine formazione. Il centro milanese di terapia della famiglia, oltre alla sede di Milano, ha sedi a Torino, Padova, Treviso, Trieste, Palermo e Genova. Grazie.